Ciao a tutti, questo è il mio nuovo video e oggi vi farò vedere come attaccare con 900 pozioni Io uso Xmod Game Se volete vedere come si installa o andate a vedere un mio video precedente Vi ricordo che Xmod Game serve al router se no non funziona Questo qui è Xmod Game E dovete schiacciare su qua Set Spear per le pozioni Però funziona solo per le pozioni che avete Io ho provato a mettere 999 di queste ma non funzionano Vedete basta soltanto che scrivete il numero che volete Però massimo 999 Cosa brutta Ora aspettate che carica E poi potete attaccare Ricordo che sono attacchi simulati Quindi non ci guadagnerete né perderete niente Potete attaccare sia il primo del mondo sia semplicemente il primo del vostro clan Io attacco il primo o il secondo del mondo Se è in attacco Come vedete 999 pozioni Distruttive E poi ripassa soltanto che Cominciate a distruggere tutto E poi ripassa soltanto che Potete distruggere Potete anche distruggere Tipo le mura Tutte Se volete Canto ci vuole un sacco Perché ce la tutte E al massimo Ecco Vedete qua 1.655.000 Di qualche c'ho guadagnato Però guardate ora Si ricarica Quel che ho guadagnato Se n'è andato Se vi è piaciuto questo video Lasciate un like E se non vi siete ancora iscritti Iscrivetevi Ciao Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima